Nelle cose semplici si nasconde spesso la verità, una verità che a volte riesce a raggiungere quella dolcezza profondamente umana e quindi universale. Ho scelto questo brano perché l'autore svela con estrema tenerezza come l'uomo trovi consolazione per la propria solitudine in un semplice gesto, il più semplice che esista. Sono Valentina Manganaro e frequento il primo anno della scuola Holden a Torino. Perché suo fratello gli aveva fatto da padre, da compagno e da tutto. E lunghe sere gli tornavano ora alla mente e partite interminabili con carte unte e verdastre che sapevano un poco di credenza e di vino anche certune, curve come le tegole dei testi. Erano vissuti sempre in due, per quasi vent'anni due soltanto nella città piena di case e di gente. Ma due sono più di cinquanta e di cento, quando ci si capisce e ci si vuol bene. Riprese un momento la lettera, poi la lasciò di nuovo scivolare dalle dita, e quella, come una farfalla, andò calma a posarsi un poco, discosta, presso la porta. Una lettera uguale a tutte le altre, insomma, a vederla così, che gli giungevano ormai da anni e da anni e finivano sempre «Io non mi lamento, e così spero di te». A tutte le altre, sul serio. Anche a quelle del mister assomigliava quella lettera sul pavimento. Il mister gli aveva proprio scritto il giorno prima che non c'era male in fondo in fondo, e che forse lo avrebbe ingaggiato ad ogni modo non per adesso, intanto però s'allenasse, perché non aveva molto fiato il ragazzo, poi si vedrebbe fra un mese o due, o ai primi di novembre a farla lunga. E lui aveva anche veduto la sera. Intanto bisognava fare ad ogni modo qualche cosa, uscire, prendere un treno, qualcosa. Ma che cosa poteva fare lui, povero diavolo? Si aveva sempre davanti agli occhi suo fratello, disteso, quieto, sul letto, e lungo, lungo quasi da far paura ai bambini, con i piedi fuori dalla lenzuola. Due piedi, lividi, enormi, che la coperta non riusciva a coprire. Anche suo padre era morto così, tempo addietro, su un letto simile, in una stanza simile, e con quei piedi. I morti nelle povere case hanno i piedi fuori dalla lenzuola. Pensò per un momento a un castigo cattivo e inverosimile, ad una ben strana condanna, e di doverla portare per sempre fino alla morte della famiglia come il negro la sua pelle. Poi uscì fra gli uomini, in strada. E fu allora che s'accorse, che scoprì quasi, di avere le tasche, in cui affondò subito le mani, sorpreso come di un dono sotto il piatto. Le tasche? Era vero? Se l'uomo non avesse le tasche, si sentirebbe troppo solo.